Ehi! Allora? Tanto ho capito, non giocherò mai. No, e tu non ti devi mica battere, eh, tu devi provare, provare, provare e pregare un po', capito? Poi vedrai che arriverà il tuo momento. Sì, arriverà il tuo momento, arriverà. Non arriverà mai. Perché? Perché è una pippa! Lui sta al calcio come io sto all'università, due pianeti inconciliabili. Inconciliabili. Una parola nuova. Bello. Sì, me l'ha insegnata Guido. Dice che io e lui siamo inconciliabili. Questo non è bello.